Leonardo Terrosi, presidente di una federazione cosiddetta minore che invece però alle Olimpiadi ha dato grande soddisfazione. Buongiorno Presidente, abbiamo ascoltato la presentazione del piano regionale, lei che cosa ne pensa di questi punti fermi e colonne portanti di un progetto importante come questo? Senz'altro siamo contenti di essere qui per ascoltare quali sono gli indirizzi politici della regione perché come federazione, anche se siamo una federazione olimpica, il nostro obiettivo è le Olimpiadi e fortunatamente come hai detto, anche questa è andata bene, una bella medaglia d'argento, per noi è importantissimo, come comitato regionale e come federazione abbiamo sempre lavorato per l'integrazione del tiro con l'arco nel territorio, l'integrazione del tiro con l'arco nel territorio per noi vuol dire non soltanto seguire il settore agonistico ma lavorare anche al sociale, far conoscere il nostro sport ai giovani e a quei ragazzi o a quei cittadini diversamente abili. Su questo ci tengo a precisarlo, abbiamo un passato dove siamo stati un po' i pionieri del progetto che ora tanti hanno fatto loro ma il discorso del tiro con l'arco per non vedenti è un progetto che è nato in Toscana, fortunatamente noi non prendiamo come un progetto nostro ma è nato da noi però ci fa piacere che ora si è sparso non soltanto a livello nazionale ma addirittura a livello internazionale, questo qui dimostra la nostra grande disponibilità sul sociale. Il 20 di settembre ci sarà una gara sperimentale mi sembra di tiro di campagna per disabili motori, è così? Sì, ecco, questa è la dimostrazione che il nostro intervento o quello che appena ha detto del nostro interesse sul sociale non è un interesse puramente di facciato o puramente dei convegni e sta diventando parte, un valore integrante della nostra federazione e delle nostre società. A Montalcino il 20 si svolgerà questa gara fatta apposta per diversamente abili e proprio perché questa gara, questa esperienza non resti una cosa isolata, diventa parte anche della cultura delle società sportive toscane? Certo, senz'altro e non soltanto è nostro interesse, è nostro, diciamo si volere, cercare in questa gara di fare un collegamento con l'unità spinale di Firenze, cioè con quelle istituzioni che lavorano sul diversamente abile. Quindi sport e riabilitazione, cultura, integrazione sociale, lo sport non è visto solo come record? No, lo sport non è come record, lo sport prima di tutto rappresenta qualcosa di sociale, perché come ha detto anche il Presidente della Regione, io ritengo e mi sembra questo messaggio è un messaggio su cui non ci so discussioni in Toscana, l'investimento sullo sport è un investimento sulla prevenzione e soprattutto sulla creazione di buoni cittadini, di buone persone e se ci si riesce anche di buoni atleti e alla lunga di medaglie olimpiche, ma lo strato di base è lo sport per tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie.